Da domani sera, per due giorni, la città di Napoli aderisce alla Fessa del Fuoco, un progetto che da anni anima nel periodo estivo l'isola di Stromboli e festeggia stavolta il suo significato antropologico e spettacolare in un angolo del lungomare. Mercoledì 29 e giovedì 30 agosto dalle 21.30 in Piazza Vittoria, danzatori del fuoco, giocolieri e artisti circensi si esibiranno in una performance di forte impatto emotivo che porta in scena antiche ritualità e tradizioni. Lo spettacolo prevede il coinvolgimento del pubblico alle rappresentazioni artistiche e si inserisce nella rassegna estate a Napoli curata dall'assessorato alla cultura.